La vita ci è stata donata, non abbiamo chiesto di nascere e speriamo di essere capaci di apprezzare appunto questo dono che ci è dato senza nessuna nostra richiesta, senza nessun nostro merito, ma la vita è il dono più grande ovviamente che abbiamo e alla base di tutti gli altri doni e cerchiamo di utilizzarla al meglio questa vita che ci è stata data. C'è però un dato comune che direi anche questi tempi ci ricordano sulla scena del mondo drammaticamente, nella vita anche delle nostre comunità e delle nostre case, accade. Abbiamo celebrato appunto anche Cristo che ha partecipato fino in fondo della nostra umanità partecipando anche del mistero della morte. Un alla morte. Allora qualcuno dice ma allora la vita è per la morte? E sarebbe un po' drammatico pensarla così. Difatti il cammino anche di riflessione di tutte le genti, di tutti i popoli, delle persone, cercare di aggrapparsi a qualcosa che non so, ci faccia capire che forse non è così. Ecco Don Davide, le riflessioni filosofiche, teologiche, le varie religioni, le mitologie, in fondo hanno cercato di esorcizzare la morte perché l'uomo che ha il dono della vita non vorrebbe morire, vorrebbe vivere sempre, però si accorge che la morte è lì sempre in agguato. Ecco direi partiamo un pochettino in questa vigilia, in questa celebrazione della Pasqua, della resurrezione di Gesù Cristo dal fatto che l'uomo muore e ha cercato in tutti i modi, prima ancora anche di aggrapparsi a Cristo, di tentare qualche via di fuga da questa morte. Sì certamente questo è un dato che l'uomo di ogni tempo perlomeno registra e quindi si accorge, un dato di realtà, che la vita di tutti termina con la morte. L'uomo di ogni tempo, direi così, di fronte a questo evento ha assunto poi anche modi diversi, ma certamente ha sempre cercato anche quasi di superare questo impasse quasi della vita in forme molto diverse, le si ricordava prima, c'è chi ha cercato di superarlo a livello così del pensiero, quindi del ragionamento, della filosofia, che si è confrontata a più livelli in diverse epoche, appunto anche con questo tema. Io ho in mente, non so, anche solo il pensiero della morte di Socrate, come Socrate, questo grande pensatore, affronta la sua morte, che tra l'altro è una morte tragica, e come la affronta? In un certo modo lasciando quasi un bagaglio, consegnando qualcosa ai suoi discepoli, no? A coloro che lo seguivano. Certamente l'uomo ha indagato anche dal punto di vista mitologico questo aspetto mitologico e anche si può collegare anche alle diverse divinità che hanno, non a caso, come spesso caratteristica fondamentale, l'immortalità, una vita che non finisce. Quindi c'è quasi dentro l'uomo un così, un anelare, un cercare questa vita che va oltre la morte. Ma pensiamo anche a tutte le religioni che affrontano questo tema in maniera seria e anche spesso in maniera molto diversa. Un conto è vedere come affrontano questo tema le religioni orientali, soprattutto io ho in mente, non so, la questione induista, no? Che della reincarnazione, quindi di una vita che non termina, dell'anima che continua a vivere in forme, in luoghi anche diversi e poi tutta invece la tradizione così più occidentale segnata fortemente dal pensiero biblico che invece si aggancia al Dio della promessa e il Dio dei viventi come troveremo poi nella Bibbia. Ecco c'è quell'espressione vanitas vanitatum et omnia vanitas. Anche la sapienza biblica ha guardato in faccia al dramma della morte, un soffio è la nostra vita, i nostri giorni sono come ombra che passano, ci sono dentro veramente dei salmi, nei libri sapienziali e dell'Antico Testamento delle considerazioni e delle riflessioni veramente intense di una grandezza e di una drammaticità. Però è proprio dentro questa storia dell'umanità attraverso il racconto biblico dell'Antico Testamento che irrompe quel Dio della vita, quel Dio che dice di se stesso è amante della vita, che quindi vorrebbe dire non vengo meno alla promessa di vita che ti ho fatto, non sono uno che ti imbroglia. Se ho creato, se ti ho messo al mondo attraverso l'opera dei tuoi genitori che si procreatori, è perché voglio che tu viva. Allora tutta la promessa che percorre l'Antico Testamento, allora citiamo un pochettino i profeti, appunto i salmi stessi, direi che comincia un modo diverso di guardar dentro a questo dramma della morte e senza avere ancora forse in tutto in parte almeno la chiarezza di dove andiamo a sbattere, però si aprono delle finestre, si aprono delle luci che credo già possono far pensare a quello che sarà poi il discorso cristiano. Sì, certamente nella Bibbia si fa avanti questo pensiero sempre di più partendo certamente da Abramo, il Dio della promessa che è il Dio che ti regala, che ti dà in dono la terra, che ti dà in dono la discendenza. Quindi parte da qui proprio il, diciamo, il cuore del pensiero biblico per arrivare a Mosè, che poi Gesù stesso rileggerà, no? Le parole del rovetto, sono il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacoppe. Sono il Dio dei, non dei morti, ma dei viventi. E quindi già questo pensiero che a poco a poco si fa strada dentro l'Antico Testamento per arrivare certamente con i profeti a una prospettiva che è invece una prospettiva sempre più chiara di una vita che non si conclude con la morte, ma una vita che è destinata a rimanere. Certamente come Dio che si fa garante di questa vita che va avanti, che continua. Questo sarà poi il pensiero che poi possiamo poi rileggere in Gesù, chiaramente nella sua storia e nella sua promessa che diventa quella appunto cristiana della risurrezione in Lui. Tra l'altro il tempo anche della Quaresima, quest'anno abbiamo risentito diverse volte il tema del germoglio. Tutto germoglia, non ve ne accorgete, dice addirittura così, la frase è biblica, non ve ne accorgete che sta germogliando, pur in mezzo sembra al deserto, appunto là dove sembra esserci morte germoglia la vita. E qui ovviamente Don Davide siccome andiamo a celebrare la Pasqua di Ressurrezione del Signore Gesù troviamo un po' la firma di Dio perché uno potrebbe dire vabbè germoglia, però in effetti facciamo fatica a rendercene conto. Anche il mondo d'oggi in mezzo a tutte queste tragedie, a quest'odio, a queste violenze, a queste morti veramente che vengono sbattute sulla scena della terra, ecco facciamo fatica a vedere questo germoglio. Abbiamo bisogno di una firma un po' più forte che non siano semplicemente le parole dette o la stessa promessa. Ecco noi andiamo a celebrare questa firma di Dio sulla storia dell'umanità nella Pasqua di Gesù. Sì, sottolineerei anzitutto che la Pasqua si celebra in primavera e anche questo secondo me è un segno molto chiaro che appunto la rinascita della natura, di quello che ci sta intorno, è una rinascita che accompagna anche questa promessa che è poi la promessa dell'eternità in Cristo. La rinascita della primavera che dà sempre una nuova speranza e quindi credo che anche legato agli eventi di cui ascoltiamo ogni giorno, che a volte ci fanno vivere dentro la drammaticità della vita e della storia, celebrare la Pasqua è celebrare davvero una rinascita, una possibilità di rinascita per ciascuno di noi e quindi anche per il nostro mondo fatto dalle nostre persone. Certamente questa rinascita ha, come si diceva, la firma di Dio, cioè è vera non perché è una bella teoria, non perché è astratta, ma è vera perché è garantita, oggi si parla delle garanzie, che garanzie ho io di investire per il futuro, che garanzia ho di metterci di impegno, la garanzia è Dio stesso in Gesù, cioè è la storia di Gesù la garanzia di Dio sulla risurrezione e quindi non è una teoria, non è una promessa astratta nemmeno di Dio, ma è ciò che Dio ha mostrato in Gesù, nel suo figlio e quindi è questa direi la garanzia della risurrezione. Ciò che è successo a Gesù potrà succedere, succederà anche a noi, proprio perché è stato lui ad aprire questa nuova strada e a darci questo grande dono, è quello che abbiamo e contempliamo proprio nella sua Pasqua. Voi cercate Gesù, il crocefisso non è qui, in questa tomba dove era stato deposto, è risorto. È l'evento che dà senso appunto alla storia e che addirittura dà senso a quel non senso che è la morte. È l'evento che contraddice la sofferenza e la morte. In Cristo Gesù si crea questa spaccatura della morte stessa che viene superata e si apre questa finestra di vita, di risurrezione, di gloria. Ecco, motivo di consolazione, Don Davide, qualcuno ci dice così a noi cristiani. È un motivo, sì, cerchiamo perché avendo un po' paura, avendo un po' speranza, vorremmo che. E qui naturalmente viene fuori, ho parlato della Terra Santa, il luogo della vita di Gesù, dei Suoi discepoli, eccetera, viene fuori la forza anche della testimonianza di cui il Vangelo ci racconta, ma della testimonianza che è data non da persone illuse, ma da persone che hanno addirittura visto. Sì, anche qui sottolineerei proprio che il risorto è sempre, prima di tutto, il crocifisso. E questa, non dobbiamo mai dimenticarci nessuna di queste due parole. Fermarci alla croce ci farebbe rimanere proprio a un grande mistero, quello della morte ancora, che ci riempi di domande. Il crocifisso, cioè colui che ha anche sofferto con tutto il suo travaglio della vita, è anche il risorto. È il risorto. E la risurrezione non annulla ciò che è stato. Non è che Gesù, si dice no, è morto così apparentemente, ha fatto finta e poi perché sapeva della risurrezione. No, la risurrezione diventa davvero la conclusione di questo cammino, ma che non annulla la morte di Gesù. E intanto è vero che Gesù si mostra ai Suoi discepoli con i segni della sua crocifissione. E sappiamo bene cosa capiterà a Tommaso, che non crederà finché non vedrà proprio i segni della croce, i segni della morte. E allora questo certamente è un passaggio molto importante da non dimenticarci mai. Il risorto è il crocifisso. E poi certamente la risurrezione è testimoniata da questi discepoli e i Vangeli, nella loro così semplicità, continuano a rimandarci la grande fatica dei discepoli a credere alla risurrezione. La grande fatica, quando le donne tornano dal sepolcro, nel primo annuncio della risurrezione, il Vangelo mette una frase che è perentoria, parve a loro quasi un vaneggiamento. Cioè cose come se le donne in quel momento stessero raccontando così, un po' fuori di testa. Noi oggi diremmo, sì, queste erano prese anche dal dolore per la morte di Gesù, sono andate un po' fuori di testa. Il Vangelo poi va avanti e ci dice proprio della fatica dei discepoli stessi a riconoscere il Signore, a vederlo risorto. La fatica poi che è l'immagine anche popolare della fede nella risurrezione che è Tommaso, che è molto seria perché appunto vuole confrontarsi con questo mistero della morte che sembra la parola fine sulla parola di Gesù, ma così ancora sul lago di Tiberiade, quando i discepoli tornano a pescare, tornano a fare la loro vita di sempre, quasi tornano indietro di tre anni, ancora una volta questo Gesù che si accosta loro e che bella la frase di Giovanni è il Signore, no? E Pietro che con tutta la sua forza si tuffa e corre incontro al Signore e poi sappiamo come si conclude il Vangelo di Giovanni. Ma io credo appunto che anche questa fatica dei discepoli nel riconoscere il Signore risorto ci dica della serietà di quello che stiamo parlando e poi ricordiamoci sempre che per questo annuncio questi uomini e anche poi queste donne hanno donato la vita, cioè sono arrivati a donare la loro vita per testimoniare nel mondo questo annuncio e anche questo è un punto di forza non indifferente. Quindi non dei creduloni ma che hanno fatto un cammino dal timore, dalla paura, dalla non fede fino alla gioia finalmente di questo incontro con il risorto e questo direi è importante anche per noi perché ci garantisce effettivamente di una testimonianza che è venuta da questa fatica di voler entrare in quest'ottica nuova, questa sorpresa, questa promessa mantenuta, questo Gesù appunto che mette la firma di Dio sul fatto che lui è dalla parte della vita e non ci abbandona nella morte. Ha cominciato con suo figlio Gesù e quindi la cosa accadrà anche per noi. Adesso noi celebriamo la Pasqua di Gesù ma sarebbe interessante proprio cominciare a pensare che non è un fatto che lo riguarda soltanto quindi non applaudiamo semplicemente Gesù risorto e poi la cosa è noi e noi appunto allora in questi giorni ci verrà detto siete risorti anche voi con Cristo e risorgerete in modo definitivo con Cristo. Questo direi è il fatto che la liturgia che celebriamo non è qualcosa che ci resta esterno ed estraneo ma che ci coinvolge ed è poi quello che fa capire che anche la nostra morte è vinta in Cristo Gesù e che anche per noi si apre, si spalanca la porta della resurrezione. Credo che l'augurio bello di Pasqua nasce poi qui dal vedere come la Pasqua di Gesù diventa la nostra Pasqua. Sì, mi ha colpito in questi giorni e sentivo una suora parlare su dei temi vari e definiva la nostra vita una continua rinascita, una continua risurrezione da morte a vita, dalla fatica alla gioia. E' un bellissimo modo per vedere, proprio per guardare la nostra vita con occhi nuovi, una continua rinascita. Certamente questa ha il suo fondamento, questo modo di vedere nella resurrezione di Gesù che ti permette ogni giorno di rinascere con Lui e in Lui. Pensiamo solo alla bellezza del sacramento del perdono dove proprio perché Gesù è morto e risorto anche noi possiamo risorgere, risollevarci da quelli che sono i nostri pesi, le nostre fatiche, i nostri peccati, a volte anche la nostra vita un po' torbida per rinascere con Lui. La nostra vita è una vita così di risurrezione in resurrezione, certamente nell'ottica della risurrezione finale, cioè del fatto che tutta la nostra vita non andrà persa, non cadrà nel nulla, anche la nostra storia, quello che abbiamo costruito nelle nostre relazioni, in Dio risorgeranno, cioè rivivranno per una vita che non avrà fine. E questo lo pensiamo appunto anche per i nostri morti, noi lo chiamiamo il cimitero, il luogo del loro riposo, ecco perché è importante che i defunti vengano sepolti, vengano posti in questo luogo dell'attesa. Cimitero significa luogo del riposo nell'attesa della chiamata definitiva alla resurrezione in cui appunto, come dicevi Don Davide, tutto di noi, trasfigurato, purificato dal male soprattutto, salvato dalla morte, parteciperà di questa pienezza di vita. In fondo è quello che diciamo nel credo. Credo che Gesù è risorto, credo la resurrezione dei morti e la vita del mondo che arriva, del regno di Dio. Siamo partiti un pochettino in questo augurio pasquale, dal fatto che la vita ci è donata, ci sembra però che la nostra vita sia esposta alla morte, arriviamo a pensare in Cristo Gesù e questa è la cosa più grande, che la nostra vita è esposta alla resurrezione, è una chiamata alla resurrezione. Saremo svegliati da questo torpore della morte per partecipare a una vita che si fa compiuta. Certo, per il battesimo in Cristo siamo già immersi nella Pasqua, siamo chiamati questa Pasqua quindi a viverla però anche quotidianamente non la si improvvisa, però abbiamo la certezza che quel Dio che ci ha donato la vita è il Dio che ci chiama a partecipare attraverso la resurrezione alla pienezza della vita, vinta la stessa morte. Quello che celebriamo in Cristo lo celebriamo per noi. Grazie don Davide per la tua testimonianza e ovviamente auguri l'augurio di una buona Pasqua, di un buon cammino pasquale che questo porti anche dentro le fatiche e le croci il segno vivo e forte della speranza e della certezza della vita in Cristo Gesù. Buona Pasqua, auguri a tutti.